Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono Elisa e nei miei video parlo di casi true crime, eventi paranormali, teorie del complotto e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare assicuratevi di iscrivervi al canale, se invece no nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Oggi signori siamo qui per una cosa che mi avete richiesto da tantissimo tempo, ovvero il primo caso italiano sul canale. Non ho mai fatto casi italiani non per cattiveria o per pregiudizio, ma semplicemente per il fatto che secondo me i casi italiani sono più sensibili, per noi italiani li sentiamo più vicini, quindi mi sembra giusto essermi fatto un po' di esperienza prima di affrontare casi del genere, essere in grado di poter diciamo rappresentare e potervi raccontare i casi al migliore dei modi possibile per me. E in secondo luogo perché i casi italiani su youtube sono stati trattati da chiunque, ci sono 800.000 video di tutti i casi true crime italiani possibili e immaginabili. Solitamente come sapete cerco di scegliere dei casi che non sono già stati trattati da altri youtuber italiani, quindi sono riuscita a trovarne uno che non ho trovato nessun altro youtuber che ha trattato l'argomento, quindi mi sono decisa, almeno al 24 di maggio, il giorno in cui registro questo video nessuno l'ha mai trattato, poi dalla sfiga che c'ho io solitamente, sicuramente uscirà un video prima che pubblichi il mio sul caso. Sono tra l'altro molto felice di iniziare con i casi italiani con un caso che conoscevo da tanto tempo, è un caso molto conosciuto qua nella mia città, per chi non lo sapesse e non lo capisse dall'accento sono torinese, e il caso di oggi ha penso segnato molto i torinesi in generale e la storia di Torino almeno per quanto riguarda i casi di omicidi e ha segnato penso proprio in generale la storia criminale diciamo di Torino. Quindi come vi ho appena detto per la storia di oggi ci troviamo a Torino più precisamente negli anni 50. Questo era un periodo particolarmente florido per la nostra città, c'era come immagino sappiate la sede della Fiat qua che stava andando particolarmente bene creando un sacco di posti di lavoro per i torinesi in generale. In questo periodo infatti un sacco di persone dai vari angoli dell'Italia stavano decidendo di trasferirsi a Torino per cercare di trovare lavoro per fare fortuna e tra l'altro piccola parentesi che non c'entra con l'omicidio anche un lato della mia famiglia che è originaria del sud si trasferì proprio in questi anni a Torino anche loro per cercare lavoro qua. Sempre più famiglie e giovani volenterosi di crearsi un nuovo futuro si trasferivano a Torino per cercare di rincorrere il sogno di una vita borghese. Torino era una città operaia quindi sicuramente era un posto molto frenetico dove c'era tanta attività un po' a qualsiasi ora del giorno e della notte. Tra l'altro il caso che vi sto per raccontare è un caso che ispirò in seguito un paio d'anni dopo circa Angela e Luciana Giussani che nel 62 pubblicarono il primo dei fumetti della serie di Diabolique e questi fumetti sono stati proprio ispirati da questa storia qui. Tra i tanti giovani che si trasferivano a Torino in cerca di fortuna c'era anche il 27enne Mario Giliberti. Mario era originario di Lucera un comune in provincia di Foggia in Puglia. Si era trasferito a Torino nel 1957 ed era riuscito a trovare una sistemazione che in realtà gli era stata trovata da un suo zio che si era trasferito come lui un paio d'anni prima a Torino in cerca di fortuna e viveva in via Fontanesi 20 nella zona di Vanchiglia di Torino in una sorta di retro bottega, era diciamo un monolocale, nel retro bottega di un negozio che al tempo faceva scarpe. Era sicuramente una soluzione un po' spartana, era un monolocale davvero piccolo, tutto un po' insieme però a Mario non interessava, era disposto a fare molti sacrifici per raggiungere il suo sogno. Il sogno di Mario come in tanti era quello di riuscire a trovare una sistemazione, ad essere assunto dalla Fiat. Quindi quello era l'obiettivo finale però inizialmente per qualche mese Mario cercò qualche lavoretto qua e là, lavorò per un periodo per il negozio di scarpe dietro il quale viveva e finalmente circa tre mesi dopo il suo trasferimento a Torino riesce a farsi assumere dalla Fiat ed era davvero felicissimo e orgogliosissimo di questa cosa. Le poche persone che l'avevano conosciuto in questi mesi lo descrivono come un ragazzo molto educato anche se un pochino taciturno, era sicuramente una di quelle persone più introverse. Quindi per un po' di tempo, per un po' di mesi iniziò a lavorare alla Fiat, si trovava molto bene e la sua vita sembrava procedere per il meglio. Il 25 febbraio del 1958 per l'ennesimo giorno consecutivo Mario non si presentò al lavoro e come vi dicevo era una persona molto orgogliosa del lavoro che svolgeva quindi solitamente era davvero responsabile, si presentava sempre a lavoro in orario, non era mai capitato che mancasse un giorno dal lavoro e la prima volta che l'aveva fatto era scomparso per un bel po' di giorni consecutivi senza avvisare nessuno e senza dare nessun tipo di giustificazione. Ora sicuramente se un giorno o due di assenza dal lavoro non restano nessun sospetto, più di una settimana sicuramente inizia a diventare una situazione un po' allarmante. Fu così che il 25 febbraio il caporeparto di Mario decise di avvisare le autorità. La polizia scelse di andare dove il giovane abitava, in via Fontanesi 20 per vedere se il ragazzo fosse lì, magari aveva avuto un malore e nessuno si era accorto di niente, qualcosa del genere, quindi si recarono in via Fontanesi 20 e provarono ovviamente a bussare alla porta. Nessuno però rispose quindi decisero di forzarla e di rompere nella stanza. Se c'era un minimo dubbio che magari il ragazzo potesse avere avuto un malore sicuramente quello che trovarono nella stanza non lasciò spazio, nessun dubbio. Il corpo di Mario si trovava disteso sul letto, avvolto dalle sue lenzuola ed alcuni abiti. Sulla scena del crimine c'era parecchio sangue e fu evidente fin da subito che la causa del decesso fossero delle ferite d'arma da taglio che in seguito poi all'autopsia si rivelarono essere 18. Il corpo di Mario si trovava in quelle condizioni da ben 11 giorni e nessuno sembrava essersi accorto di niente. Una cosa in particolare diede il via a quello che fu poi uno dei casi più misteriosi forse che siano mai successi a Torino. Di fianco al corpo la polizia ritrovò un biglietto sul quale c'era scritto troverete l'assino e non sono diventata scema tutto di un colpo. Era stato scritto assino invece di assassino per qualche motivo, magari per un che di ignorante da parte dell'assassino oppure semplicemente era un modo di sviare le indagini e se questa cosa aveva sembrata strana non avete idea di quanto si infittisca il mistero di qui in poi. Venne fuori infatti che il giorno prima del ritrovamento del corpo, quindi il 24 febbraio, era stata effettuata una telefonata a una redazione della stampa sera che se non siete di Torino c'è ma magari conoscete non so magari è una cosa famosa per tutti. Comunque c'è un giornale quotidiano che è proprio di Torino che si chiama la stampa e al tempo non so se ci sia ancora non leggo tantissimo il giornale proprio in formato cartaceo. Comunque al tempo c'era un'edizione serale della stampa che appunto si chiamava la stampa sera e usciva appunto solo nel tardo pomeriggio. Come vi stavo dicendo è arrivata una chiamata telefonica da una persona anonima che non si è identificata e che viene descritta dalla persona che ha risposto alla chiamata come una persona che parlava con un evidente accento del sud. Non so perché motivo questa persona non ha definito che tipo c'è voglio dire al sud ci sono un sacco accenti diversi come li abbiamo al nord cioè il milanese ha un accento diverso dal mio l'emiliano pure e così dicendo quindi non so perché non sia stato definito comunque disse che questa persona aveva un accento del sud e questa persona disse semplicemente una frase disse ho ucciso una persona in via del Po. Ora se non siete diciamo abituali frequentatori di Torino o magari lo siete ma non ci avete mai fatto caso noi abbiamo una delle vie che è la più direi importante tra le più importanti del centro che si chiama via Po. Questa via Po non è in realtà particolarmente vicino a via Fontanesi e non c'entra molto con la zona di Vanchiglia però essendo che questa persona l'ha definita via di Po ha fatto pensare alla polizia che si stesse riferendo effettivamente a via Fontanesi perché cercherò di mettervi una foto della cartina in modo che capiate anche voi praticamente via Fontanesi in realtà è vicina letteralmente a due minuti a piedi dal Po quindi era plausibile per la polizia che magari una persona che non frequentava Torino non conosceva Torino definisse quella via o comunque quella zona via di Po o zona di Po appunto perché si affacciava praticamente sul Po. Fatto sta che tutti questi ragionamenti ovviamente vengono fatti successivamente al ritrovamento di Mario però nel momento in cui in realtà arrivò questa chiamata alla stampa sera decisero di ignorare per un motivo per un altro questa chiamata però a quanto pare questo signore che evidentemente era responsabile di quanto era successo a Mario aveva proprio voglia che le persone sapessero quello che aveva fatto quindi quando notò che non era successo niente che questa sua telefonata non aveva scaturito nessun tipo di reazione nei torinesi e nella polizia in generale torinese la mattina del 25 febbraio una decina di ore prima che trovarono perfettivamente il corpo di Mario inviò una lettera sia alla stampa che al commissariato dei carabinieri di Torino ho recuperato le immagini di questo biglietto che ovviamente vi faccio vedere intanto vi leggo quello che c'è scritto sopra sono venuto da lontano per via di compiere il mio delitto da non confondersi con uno qualsiasi ho studiato la cosa perfetta in modo da non lasciare traccia neanche di un ago con il delitto è cessato insieme l'odio per lui questa sera parto alle ore 20 un tempo io e la vittima eravamo molto amici e portavamo la divisa insieme poi lui mi ha tradito come se fossi un cane oggi stava bene e così che la mia vendetta l'ho raggiunto spero che scoprirete il suo cadavere prima che diventi marcio leggendo con attenzione la lettera troverete con precisione dove è stato compiuto il mio delitto perfetto e poi questo biglietto viene firmato con diabolique col ch da qui potete immaginare come si ispirarono angela e luciana per il fumetto diabolique ok vi ho dato un po di informazioni una dietro l'altra non so se ci avete fatto caso chiaramente io vi ho messo la foto mentre leggevo il biglietto in certi punti nella prima parte della lettera questa persona che stava scrivendo andava a capo un pochino a caso sembrava fatto apposta per qualche motivo andava a capo a metà di parole in un modo che non aveva nessun tipo di senso la polizia iniziò a analizzare questa queste lettere e prendendo le ultime lettere prima che andasse a capo nella prima parte del biglietto venne fuori un indirizzo ovvero via fontanesi 20 proprio l'indirizzo di mario giliberti ora non so a voi a me viene quasi difficile credere che questo sia un caso reale sembra qualcosa per cui qualcuno potrebbe scrivere un romanzo ed è assurdo secondo me vedere come questa persona aveva così voglia di studiarsi questi giochetti e di in qualche modo probabilmente sentirsi superiore alla polizia tra l'altro il responsabile chiunque avesse scritto questa lettera doveva essersi in qualche modo ispirato a un romanzo poliziesco chiamato uccidevano di notte che era uscito circa due anni prima ed è un libro scritto da italo fasan sotto lo pseudonimo di bill skyline e in questo video proprio c'era una persona che si chiamava diabolik che aveva tra l'altro consegnato alla polizia per segnalare diciamo il luogo di un omicidio proprio lo stesso giorno nel quale lo fece lui ovvero il 25 febbraio che è una coincidenza sicuramente inquietante diciamo a dir poco in ogni caso a questo punto la polizia inizia ufficialmente le indagini al tempo come potete immaginare la polizia non aveva sicuramente chissà che accesso a strumenti tecnologici e robe del genere non poteva di certo confrontare o rilevare anche solo del dna presente sul foglietto o sulla scena del crimine quindi sicuramente non avevano molto su cui iniziare un'indagine quello che sapevano però di per certo è che il responsabile la persona che aveva compiuto il tutto era sicuramente quella che aveva mandato la lettera alla stampa e di conseguenza conosceva Mario era un suo vecchio amico era un uomo sicuramente più o meno probabilmente della sua età e come appunto aveva scritto l'uomo nella nella lettera aveva servito anche nel servizio militare insieme a Mario era tra l'altro probabile che l'uomo arrivasse dal sud Italia e sicuramente non era un frequentatore abituale di Torino la polizia iniziò ad indagare sugli spostamenti di Mario e venne fuori che l'ultima volta che qualcuno lo vide vivo fu il 14 febbraio lo avevano visto infatti quella mattina alcuni vicini di casa lo avevano visto mentre era uscito di casa in pigiama cosa tra l'altro inusuale per Mario si era recato in un bar della zona molto frequentato aveva ordinato due caffè da asporto e dopo aver pagato e ringraziato aveva preso i due caffè e li aveva riportati in casa sua ora o per qualche motivo Mario aveva deciso di consumare due caffè quella mattina oppure quella notte aveva avuto un ospite le persone che l'hanno visto quel giorno dicevano che come al solito era stato molto taciturno molto educato aveva salutato eccetera però non si era fermato a parlare con nessuno e che era sembrato a tutti assolutamente normale non sembrava spaventato non sembrava che avesse fretta di fare qualcosa sembrava il solito Mario gli unici plausibili testimoni a quello che poi era successo quella sera erano due ragazzi che abitavano di fronte a dove abitava Mario che quella sera in particolare avevano sentito delle urla che al tempo gli erano in realtà sembrate delle urla femminili pensavano di aver sentito una donna urlare e avevano sentito per certo la parola aiuto e poi qualcosa che secondo loro era Valerio sembrava che avessero sentito aiuto Valerio però mentre erano sicuri al 100% di aver sentito aiuto su Valerio erano un pochino insicuri diciamo così non erano sicuri di aver sentito proprio Valerio in ogni caso prendendo per appunto che quelle urla fossero effettivamente di Mario e non magari che non c'entrassero niente con il caso la polizia non riuscì a trovare nessun tipo di collegamento di qualsiasi persona che si chiamasse Valerio con Mario per molto tempo in realtà la polizia brancolò nel buio, non aveva piste, non sapeva davvero dove iniziare un'indagine o comunque verso che cosa iniziare ad indagare potete tra l'altro immaginare le cose che vennero scritte in quel periodo dai giornali a Torino che non fecero altro che aumentare ancora di più il panico nella città sembrava che ci fosse un pazzo psicopatico che girava libero per Torino a compiere queste cose qui inoltre iniziarono ad arrivare un sacco di segnalazioni di gente che pensava di conoscere la persona che l'aveva fatto le classiche cose che succedono solitamente in casi un pochino più mediatici e fu anche, anzi penso soprattutto per questa misteriosa lettera che era stata inviata dall'assassino che il caso divenne proprio famoso, cioè se ne parlava da tutte le parti, persino oltreoceano tant'è che in realtà c'è, non so se conoscete Zodiac, è un serial killer che non hanno mai identificato, americano si pensa, ci sono certe persone e per un po' in realtà l'indagine si era spostata lì che in qualche modo avesse preso spunto da Diabolik appunto di Torino questa ve la butto qua perché sono appassionata di queste cose qui però non c'è nessuna prova ovviamente che siano collegati i due casi tornando a Torino ovviamente la gente aveva paura di uscire la sera tardi di farsi trovare da solo, anche le donne erano molto spaventate ad uscire senza l'accompagnamento o di tante altre persone o comunque di un fidanzato, un fratello, un amico si era insomma un po' diffuso il panico soprattutto a causa di tutti gli articoli che stavano scrivendo i vari giornali la polizia nel frattempo stava indagando sulle vecchie amicizie di Mario e in particolare su una persona nel portafoglio di Mario infatti avevano trovato una fotografia sul quale c'erano due persone e dietro questa fotografia c'era una dedica con una firma nella fotografia posavano due ragazzi vestiti in abbigliamento militare in divisa uno dei due ragazzi era proprio Mario e l'altro era la persona che aveva firmato la foto si trattava di Aldo Cugini un ragazzo che anche lui al tempo aveva 27 anni era coetaneo di Mario era bergamasco e proveniva da una lunga famiglia di imprenditori di conseguenza erano una famiglia decisamente benestante tra l'altro in quel periodo nel 1958 stava organizzando il matrimonio con la sua fidanzata che al tempo era incinta cosa che adesso non ci darebbe nessun problema al tempo era un pochino di scandalo diciamo che una coppia ancora non sposata aspettasse già un bambino secondo le persone che conoscevano Aldo lo descrivevano come un ragazzo educato un ragazzo proprio perfetto non diceva mai qualcosa di fuori luogo era stato cresciuto dalla famiglia con valori molto cattolici quindi insomma niente di particolare o di al di fuori della normalità che c'era al tempo come si può ovviamente immaginare dalla fotografia che era stata trovata i due avevano servito per molto tempo nello stesso comando militare penso si dica insieme quindi si erano conosciuti proprio durante il loro servizio militare la polizia da questo iniziò diciamo a creare un'ipotesi secondo la polizia i due avevano una relazione romantica una relazione sentimentale e questa ipotesi nacque dal fatto innanzitutto che per il tipo di crimine si doveva trattare per forza di un crimine passionale non so se l'avete sentito altre volte io l'ho sentito spesso che nei casi soprattutto nei quali si utilizza un'arma da taglio e quando ci sono più ferite non è un raptus c'è sicuramente dietro qualcosa di sentimentale che lega la vittima con l'assassino in più come vi dicevo la foto era firmata e c'era anche una dedica che sembrava qualcosa di dolce che magari si potessero scrivere due persone che erano legate da un affetto romantico secondo la polizia quindi i due avevano una relazione per un motivo o per un altro Mario si era trasferito a Torino aveva tagliati i ponti Aldo si era sentito tradito da questa cosa e quindi lo aveva raggiunto a Torino e l'aveva ucciso in più ovviamente anche il fatto che come vi ricordate l'ultima volta che è stato visto vivo Mario era in pigiama era andato a comprare un caffè sembra la classica cosa che si fa tra coppie non andare a prenderti il caffè la mattina non lo so la polizia si era fatta questa storia qua praticamente in mente in ogni caso riuscirono a rintracciare Aldo cugini e lo arrestarono due giorni dopo il suo arresto però arrivò una nuova lettera alla stampa sera proveniente da Vicenza in questa lettera c'era scritto sono arrivato vi do la traccia 100 saluti e pazienza e di nuovo era firmato con Diabolic secondo gli esperti dell'epoca questa lettera era attendibile facendo un'analisi della calligrafia pensavano che potesse essere la stessa persona ad averlo scritto secondo me però non lo so non sarei così tranquilla sul fatto che questa lettera fosse attendibile in casi del genere capita sempre ed è capitato in realtà anche in questo caso che dopo la prima lettera qualsiasi tipo di giornale è stato bombardato da altre lettere scritte almeno presumibilmente da persone che si firmavano proprio con Diabolic io penso che era sicuramente pieno di mitomani e in più magari essendo che comunque la stampa sera era più conosciuta di prima per questa storia qua quindi non mi sorprenderebbe il fatto se altri giornali locali magari avessero fabbricato dei biglietti per dire è arrivata una lettera da Diabolic anche a noi in ogni caso Aldo Cugini venne ovviamente indagato e fecero una comparazione tra la sua calligrafia e quella dei primi due biglietti quello trovato sulla scena del crimine e quello inviato alla stampa ed effettivamente erano calligrafie compatibili c'erano molte simili turini tra la sua calligrafia e ce n'erano ancora di più perché chiaramente quando sei indagato di un omicidio e ti chiedono di scrivere delle cose magari uno può iniziare a scrivere con una calligrafia un po' diversa dalla solita magari per sviare o cose del genere però compararono anche la calligrafia quella che era stata scritta dietro alla fotografia la dedica sapete la firma di cui vi avevo parlato prima e c'erano ancora più similitudini tra quella calligrafia lì con quella di Diabolic nel frattempo soprattutto la stampa ma un po' tutti i giornali stava ricevendo una miriade di bigliettini una dietro l'altra e l'11 marzo consegnarono tutte le lettere che gli erano arrivate da Diabolic alla polizia ovviamente a Torino continuava a scatenarsi il panico tutti erano non tutti però sicuramente la maggior parte della gente era sicuramente spaventata dalla situazione e il 16 marzo arrivò un'ennesima lettera che di nuovo secondo gli esperti era stata scritta dalla stessa persona e su questa lettera c'era scritto il mio delitto non è un gioco da ripetersi di nuovo firmato Diabolic nonostante questa promessa come potete immaginare ci volle un bel po' di tempo prima che a Torino si tornasse a respirare un'aria più rilassata e serena a questo punto la polizia ovviamente vagliò l'alibi di Aldo che non era così ferreo come una persona si potrebbe immaginare Aldo disse infatti che quel giorno si trovava in giro per Vercelli con la sua auto da solo nessuno l'aveva visto non aveva parlato con nessuno quindi non aveva nessuno che potesse confermare il fatto che si trovasse a Vercelli ma in ogni caso anche se si fosse trovato effettivamente a Vercelli c'è tipo forse poco più di un'ora di macchina tra Vercelli e Torino quindi in ogni caso poteva anche essersi trovato lì la mattina e poi essersi spostato a Torino in più quando la polizia gli chiese come mai si trovasse a Vercelli da solo con la sua auto senza incontrare e parlare con nessuno e lui disse semplicemente che voleva farsi un giro quindi diciamo non c'erano motivazioni per cui dovesse effettivamente trovarsi a Vercelli Aldo rimase in carcere per quasi 5 mesi e poi un giudice fece cadere tutte le accuse effettivamente la similitudine di due calligrafie non può essere una prova effettiva di essere coinvolti in un omicidio quindi un giudice decise di scarcerarlo e di liberarlo da ogni accusa e qua inoltre c'è una cosa che personalmente mi ha fatto un po' arrabbiare sono sicura che la maggior parte di voi avrà la stessa reazione però dobbiamo anche tenere conto del fatto che parliamo del 1958 quindi qualcosa che magari adesso nessuno direbbe al tempo era purtroppo la normalità il giudice nella sentenza osservò che quanto era accaduto a Mario dovesse per forza essere collegato essere dovuto alla sua e cito anormalità sessuale che è riferito all'orientamento sessuale di Mario perché chiunque fosse stato si trovava nel suo appartamento la sera lo aveva accolto a tarda notte il giorno dopo gli era andato a prendere un caffè quindi secondo il giudice era successa questa cosa a causa di nuovo cito della normalità sessuale di Mario di nuovo non è scusabile ma parliamo del 1958 al tempo era normale che un giudice dicesse una cosa del genere a quanto pare in ogni caso purtroppo la storia si concluse così nel senso che al d'uscì di prigione a mio parere c'entrava sicuramente qualcosa io sono dell'idea che quando ci sono troppe coincidenze verso una persona o sei la persona più sfigata dell'universo cioè che per tutta una serie di coincidenze si trovi nel momento sbagliato il giorno sbagliato allora sbagliata con la persona sbagliata oppure c'entri qualcosa penso che sia molto più plausibile in queste situazioni ma l'ho già detto una cosa del genere è molto più plausibile che sei stato tu che tu sia la persona più sfigata dell'universo non so fatemi sapere come al solito cosa ne pensate di questo caso che trovo strappassionante non so per il fatto che magari sia capitato a Torino che è la mia città sono nata vissuta e cresciuta qui e anche perché è stato sicuramente un caso molto mediatico anche con tutta questa cosa dei bigliettini sembra quasi uscito da un libro e non dalla vita reale quindi di nuovo fatemi sapere che cosa ne pensate di questo caso nei commenti grazie per essere arrivati fino a questo punto del video per il caso di oggi era tutto noi ci rivediamo al prossimo video grazie per la visione